La bella piazza di questa città ungherese, già celebre per la sua meravigliosa basilica, offre una nuova curiosità artistica ai visitatori. L'orologio Carillon, sistemato sulla facciata del Palazzo Vescovile, con il suo gioco di figure rappresentanti la storia della cultura universitaria maggiara, semoventi al suono di antiche aree studentesche. L'orologio Carillon L'orologio Carillon